Al trono classico di uomini e donne ne stanno accadendo davvero di tutti i colori Ad essere maggiormente animato è il trono di Riccardi. La personalità e i modi di fare del tronista hanno spinto le sue corteggiatrici all'esasperazione Per questo motivo Claudi ha deciso di provocare Lorenzo in un modo molto esplicito e diretto, suscitando in lui reazioni inaspettate La corteggiatrice, infatti, si è presentata in esterna da lui con un abito super sexy che ha scaldato immediatamente gli animi Claudia esce con Ivan.Il trono di Lorenzo, è sicuramente il più dinamico e controverso di questa stagione di uomini e donne Le sue corteggiatrici, Giulia e Claudia sono infatti allo stemo. Soprattutto quest'ultima ha mostrato, in più di un'occasione, la sua completa insofferenza a tutta questa situazione Nonostante tutto, però, la ragazza è ancora lì, e, nel tentativo di spronare il ragazzo a scegliere, ha deciso di compiere un gesto estremo Nel corso di una precedente puntata del talk show, infatti, Maria De Filippi aveva spinto Claudia a ballare con l'altro tronista Ivan I due erano sembrati, sin da subito, molto al loro agio. Per questo motivo, Claudia ha deciso di provocare Lorenzo a uomini e donne in un modo molto particolare La ragazza, infatti, poco prima di recarsi in esterna dal tronista, ha scelto di trascorrere delle ore con Ivan I due si sono scatenati al ritmo di musica latina. Subito dopo, Claudia ha raggiunto Lorenzo in esterna, il quale era ignaro di quanto accaduto poco prima La provocazione di Claudia a Lorenzo in esterna.La corteggiatrice si è presentata con un seducente abito molto scollato che, in men che non si dica, ha surriscaldato gli animi Lorenzo, infatti, si è mostrato notevolmente in imbarazzo nei confronti di Claudia Il ragazzo non ha potuto fare a meno di lanciare qualche frecciatina che ha fatto sorridere il pubblico di uomini e donne Riccardi ha fatto delle allusioni riferite, chiaramente, alla sfera fisica. Ad un certo punto dell'esterna, il ragazzo non ce l'ha più fatto La fatta, si è alzato in piedi, e ha detto di avere un grosso problema Il pubblico è naturalmente scoppiato a ridere mentre la corteggiatrice era molto compiaciuta Insomma, Claudia le sta provando davvero tutte pur di conquistare il cuore di Lorenzo di uomini e donne I suoi tentativi, però, non stanno fruttando i risultati sperati dal momento che il tronista è sempre più confuso tra lei e Giulia Come andrà a finire la vicenda? Lo scopriremo molto presto Ciao, ciao Ciao Ciao